La casetta dei pensionati tra poche settimane tornerà ad accogliere cittadini pescaresi che hanno saputo mantenere alta l'attenzione su un luogo simbolo della città caro a chi da sempre ama ritrovarsi al centro della pineta d'Annunziana. In queste immagini il polmone verde di Pescara appare tornato a nuova vita grazie anche alla vegetazione rigogliosa che in parte ha sanato le brutture dell'incendio del primo agosto scorso. Qualche tronco annerito riporta alla memoria quanto è accaduto e intanto l'amministrazione annuncia il primo punto del piano operativo degli interventi finanziati con 1.200.000 euro provenienti dall'assicurazione. La casetta tornerà nella sua sedia originaria. L'amministrazione dopo l'evento nefasto ha accolto il nutrito gruppo di pensionati in un'altra struttura vicino al laghetto senza mai lasciarli orfani. Il progetto di rigenerazione di salvaguardia prevede la messa in sicurezza del comparto 4 che ingloberà anche parte della zona più colpita dal rogo, compresa tra via Pantini e strada della Bonifica. Diversi gli alberi che sono stati già rimossi a tal fine, azione criticata dalle associazioni ambientaliste ma a Palazzo di Città, sede di tavoli tecnici che vedono la presenza di esperti come Nevio Savini, generale in pensione dei carabinieri forestali o di Dario Febo, ex direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, pare ci sia solo volontà di ricostruire e non di polemizzare. Stiamo lavorando con questi esperti ormai da un anno e mezzo, stiamo seguendo tutte le loro indicazioni perché chi più di loro può darci delle idee e dei suggerimenti. Quindi stiamo seguendo alla lettera tutto ciò che loro ci stanno dicendo, al di là di quello che si possa dire in giro con tutti gli ambientalisti che dicono, però noi dobbiamo stare tranquilli perché dobbiamo far sì che la popolazione di Pescara che frequenta la Pineta sia messa in sicurezza. E la Pineta d'Annunziana diventerà presto anche più grande, previsto nel progetto anche l'inclusione di aree che naturalmente, verrebbe da dire, fanno già parte della riserva come l'ex galoppatoio che si estende per circa 50.000 metri quadrati.